non è pronto? eh? tu che stai? tu sei un bel tondo! no! ma nonno raga sta a mangiare i peperoni! guardate! guardate! e beh io che mangio invece? ragà ragà guardate che c'è sta pasta maionese e tonno assaggiamola un po' com'è? vediamo un po' com'è nonna? e te che hai mangiato? la porchetta? no vabbè anche tu l'hai mangiata? eh birichino? oh prendi! l'hai mangiata anche tu? non era bello i peperoni! basta un pochetti tu non rispondi! assaggiamo un po' assaggiamo un po' nonno ma che vedi? era finita quella ieri sera? nonno è più buona della pasta col tonno normale è più buona così con la maionese ci credi? a nonno dovete sapere che non gli piace il pesce quindi il tonno non lo mangia quindi adesso avviciniamo il piatto aspettate prendo proprio il pezzetto di tonno dai oh porca madonna! eh? ma io vorrei capire quello che ha mangiato nonna tu che hai mangiato a pranzo? eh? no sei tu che mangi diverso tu che hai mangiato? tu che hai mangiato? e tu che non mangi come noi? tu che hai mangiato? la porchetta ha mangiato! la porchetta? era buona o no? era buona o no? si è fatta mangiare? oh che schifo! no! ma hai sbrotolato tutta una guancia no? ma hai sbrotolato tutta una guancia